Fa piacere quando capiscono anche queste giornate più fortunate, quando entra la palla nel canestro, quindi bene. Però la cosa importante è che penso che stasera tutti abbiamo messo grande energie, che hanno in concentrazione, che era la cosa più importante e quindi è la cosa più importante appunto della partita. Ma abbiamo cercato di far girare la palla il più possibile, anche di cercare magari di arrivare fino in fondo agli schemi e quindi abbiamo cercato di fare il meglio possibile appunto passandoci bene la palla in attacco. Insomma questa è una cosa positiva che tutte possono entrare e in quel momento dare il massimo e poi anche avere minutaggio per riposare, quindi penso che lì c'è ancora voglia ognuna che appunto quando si ha la possibilità di entrare di dare il massimo e quindi questa è una cosa appunto un valore in più.